Vi propongo un'anticipazione emozionante e ricca di suspense riguardo alle prossime puntate di Terra Amara. Un episodio che sarà caratterizzato da colpi di scena e decisioni imprevedibili. Vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità di questa affascinante sopopera. La festa di compleanno del piccolo Adnan si avvicina e l'entusiasmo è palpabile tra tutti, tranne che per Mugeigan, che sorprende Fekeli vedendola ancora in pigiama, lontana dagli frenetici preparativi. Fekeli, perplesso, le chiede perché non si sta ancora preparando per l'evento imminente. Senza esitazioni, Mugeigan risponde che non ha intenzione di partecipare alla festa e si chiede se la sua presenza sia veramente necessaria. Con saggezza e calma, Fekeli spiega che non c'è alcuna pressione per partecipare, ma sottolinea che avevano precedentemente concordato di unirsi tutti insieme per accompagnare il piccolo Kerem, fratello di Adnan, alla celebrazione. Nonostante la determinazione di Mugeigan, Fekeli le ricorda gentilmente che Adnan è suo nipote e fratello di Kerem. Nonostante l'apparente fermezza di Mugeigan, ammette di essere consapevole della situazione, ma insiste sul fatto che non vuole partecipare all'evento, poiché desidera superare il dolore per la perdita di Ilmaz. Confessa di non essere pronta a vedere facce che potrebbero riportarla indietro a un passato che desidera dimenticare. La tensione è palpabile, e tutti si chiedono come Mugeigan affronterà i suoi demoni e come la famiglia reagirà alla sua decisione. Riuscirà a superare il suo dolore? Con la sua solita serenità e saggezza, Fekeli fa riflettere Mugeigan. Non chiede di dimenticare il passato, ma di accettare che è ora di lasciarlo andare, per il bene dei loro figli e per creare un ambiente sereno nel quale crescere. Sottolinea l'importanza di coesistere pacificamente con Zuleya e le ricorda che Ilmaz e Demir, nonostante i loro conflitti, sono riusciti a mettere da parte il loro odio reciproco. Fekeli fa appello a Mugeigan perché consideri la ragione dietro la sua richiesta. Alla fine, Mugeigan cede e decide di prepararsi per l'evento. Nel frattempo, Demir aiuta il piccolo Adnan a vestirsi per la festa imminente. Finalmente, con Kerem e Fekeli, Mugeigan fa il suo ingresso al party. La festa prende vita quando arriva la torta di compleanno, e Adnan e Uzum soffiano le candeline, mentre un coro di applausi e auguri riempie la stanza. Mentre la festa continua, si annuncia che è giunto il momento di svelare la grande sorpresa che Demir ha preparato per suo figlio. Demir, visibilmente emozionato, esprime la sua gratitudine a tutti i presenti per aver condiviso questo giorno speciale con lui e la sua famiglia. Durante il suo discorso, mette in evidenza l'amore incondizionato che prova per i suoi figli e annuncia la decisione di lasciare parte del suo patrimonio a loro. In un momento toccante, rivela che ha accolto il figlio di Ilmaz come se fosse suo e ha deciso di onorare la memoria di Ilmaz dando ad Adnan il suo nome. Zuleyha e Fekeli sono visibilmente commossi e orgogliosi di questo gesto. La notizia che Adnan porterà il nome del suo vero padre, Ilmaz, viene accolta con un fragoroso applauso. Zuleyha abbraccia affettuosamente Demir per ringraziarlo, mentre Umit, giunta alla festa, osserva la scena con un velo di tristezza. Gli ospiti si avvicinano uno ad uno per fare i loro regali, e Fekeli ringrazia Demir per aver omaggiato suo figlio con una proprietà. Fuson e le sue amiche sono sorprese nel vedere il dono fatto da Fekeli ad Adnan. Umit si avvicina a Zuleyha, accolta calorosamente da lei, ma Demir osserva la scena con una certa irritazione. Lui la raggiunge al bagno e, interrompendo il suo commento sulla festa, le chiede con rabbia perché sia lì, ricordandole che le aveva detto di non partecipare e che avevano un accordo tra di loro. Umit risponde che è stata invitata personalmente da Zuleyha e che, se non fosse venuta, avrebbe voluto sapere il motivo, quindi ha deciso di partecipare per evitare di destare sospetti. Demir rimane scioccato dalla sua risposta. La celebrazione continua, ma Umit nota con disagio l'affetto tra Zuleyha e Demir. La sua amica esprime sorpresa nel vedere che Demir ha dato a suo figlio il nome di Ilmaz, mentre Gulten, osservando Zuleyha e Demir, nota la loro felicità. Fekeli, sperando che questa gioia duri per sempre, si unisce a loro. Tuttavia, l'atmosfera viene interrotta improvvisamente da Gaffur, che urla attirando l'attenzione di tutti. Demir chiede spiegazioni e Gaffur, visibilmente spaventato, rivela che la villa è in fiamme. La notizia provoca shock tra i presenti, e tutti si affrettano a raggiungere la villa. Trovano il fienile distrutto dalle fiamme. Gulten chiede a Gaffur cosa stesse facendo. Gaffur risponde che si trovava nel fienile al momento dell'incendio e che dovrebbero essere grati perché ha aiutato a spegnere le fiamme in tempo per salvare il resto della villa. Gulten si rallegra che nessuno sia rimasto ferito nell'incendio. Successivamente, Demir afferma con convinzione che l'incendio sia stato causato da Fikret. Il giorno dopo, Demir si avvicina ad Fekeli con rabbia e chiede dove si trova Fikret. Fekeli chiede perché Demir sta cercando Fikret, e Demir risponde che entrambi sanno il motivo. Demir provoca Fekeli dicendo che non può essere considerato suo zio se non riesce a controllare Fikret. Fekeli avverte Demir di stare attento alle parole, ma Demir lo minaccia e lo esorta a prendere le redini della situazione. Demir poi chiede a Fekeli quali siano le sue intenzioni dato che ha già diffamato la madre di Fikret. Fekeli risponde che Fikret avrebbe dovuto pensare due volte prima di diffamare suo padre. La discussione tra i due si fa sempre più accesa, e Demir definisce Fekeli un codardo, suscitando la sua ira. Fekeli, furioso, se ne va, ma Demir lo segue fino all'azienda e gli spara ripetutamente al petto, lasciandolo a terra e terrorizzando tutti i presenti. La trama sembra essere molto coinvolgente e piena di suspense. Sarebbe interessante vedere il video per scoprire se era davvero Fikret e se Fekeli riuscirà a sopravvivere all'agguato di Demir. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle novità della serie preferita. Lasciate un like e attivate le notifiche per non perdere gli aggiornamenti. Grazie e ci vediamo nel prossimo video. Un episodio che sarà caratterizzato da colpi di scena e decisioni imprevedibili. Vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle novità di questa affascinante sopopera. La festa di compleanno del piccolo Adnan si avvicina e l'entusiasmo è palpabile tra tutti, tranne che per Mugeigan, che sorprende Fekeli vedendola ancora in pigiama, lontana dagli frenetici preparativi. Fekeli, perplesso, le chiede perché non si sta ancora preparando per l'evento imminente. Senza esitazioni, Mugeigan risponde che non ha intenzione di partecipare alla festa e si chiede se la sua presenza sia veramente necessaria. Con saggezza e calma, Fekeli spiega che non c'è alcuna pressione per partecipare, ma sottolinea che avevano precedentemente concordato di unirsi tutti insieme per accompagnare il piccolo Kerem, fratello di Adnan, alla celebrazione. Nonostante la determinazione di Mugeigan, Fekeli le ricorda gentilmente che Adnan è suo nipote e fratello di Kerem. Nonostante l'apparente fermezza di Mugeigan, ammette di essere consapevole della situazione, ma insiste sul fatto che non vuole partecipare all'evento, poiché desidera superare il dolore per la perdita di Ilmaz. Confessa di non essere pronta a vedere facce che potrebbero riportarla indietro a un passato che desidera dimenticare. La tensione è palpabile, e tutti si chiedono come Mugeigan affronterà i suoi demoni e come la famiglia reagirà alla sua decisione. Riuscirà a superare il suo dolore? Con la sua solita serenità e saggezza, Fekeli fa riflettere Mugeigan. Non chiede di dimenticare il passato, ma di accettare che è ora di lasciarlo andare, per il bene dei loro figli e per creare un ambiente sereno nel quale crescere. Sottolinea l'importanza di coesistere pacificamente con Zuleya e le ricorda che Ilmaz e Demir, nonostante i loro conflitti, sono riusciti a mettere da parte il loro odio reciproco. Fekeli fa appello a Mugeigan perché consideri la ragione dietro la sua richiesta. Alla fine, Mugeigan cede e decide di prepararsi per l'evento. Nel frattempo, Demir aiuta il piccolo Adnan a vestirsi per la festa imminente. Finalmente, con Kerem e Fekeli, Mugeigan fa il suo ingresso al party. La festa prende vita quando arriva la torta di compleanno, e Adnan e Uzum soffiano le candeline, mentre un coro di applausi e auguri riempie la stanza. Mentre la festa continua, si annuncia che è giunto il momento di svelare la grande sorpresa che Demir ha preparato per suo figlio. Demir, visibilmente emozionato, esprime la sua gratitudine a tutti i presenti per aver condiviso questo giorno speciale con lui e la sua famiglia. Durante il suo discorso, mette in evidenza l'amore incondizionato che prova per i suoi figli e annuncia la decisione di lasciare parte del suo patrimonio a loro. In un momento toccante, rivela che ha accolto il figlio di Ilmaz come se fosse suo e ha deciso di onorare la memoria di Ilmaz dando ad Adnan il suo nome. Zuleyha e Fekeli sono visibilmente commossi e orgogliosi di questo gesto. La notizia che Adnan porterà il nome del suo vero padre, Ilmaz, viene accolta con un fragoroso applauso. Zuleyha abbraccia affettuosamente Demir per ringraziarlo, mentre Umit, giunta alla festa, osserva la scena con un velo di tristezza. Gli ospiti si avvicinano uno ad uno per fare i loro regali, e Fekeli ringrazia Demir per aver omaggiato suo figlio con una proprietà. Fuson e le sue amiche sono sorprese nel vedere il dono fatto da Fekeli ad Adnan. Umit si avvicina a Zuleyha, accolta calorosamente da lei, ma Demir osserva la scena con una certa irritazione. Lui la raggiunge al bagno e, interrompendo il suo commento sulla festa, le chiede con rabbia perché sia lì, ricordandole che le aveva detto di non partecipare e che avevano un accordo tra di loro. Umit risponde che è stata invitata personalmente da Zuleyha e che, se non fosse venuta, avrebbe voluto sapere il motivo, quindi ha deciso di partecipare per evitare di destare sospetti. Demir rimane scioccato dalla sua risposta. La celebrazione continua, ma Umit nota con disagio l'affetto tra Zuleyha e Demir. La sua amica esprime sorpresa nel vedere che Demir ha dato a suo figlio il nome di Ilmaz, mentre Gulten, osservando Zuleyha e Demir. Nota la loro felicità. Fekeli. Sperando che questa gioia duri per sempre, si unisce a loro. Tuttavia, l'atmosfera viene interrotta improvvisamente da Gaffur, che urla attirando l'attenzione di tutti. Demir chiede spiegazioni e Gaffur, visibilmente spaventato, rivela che la villa è in fiamme. La notizia provoca shock tra i presenti, e tutti si affrettano a raggiungere la villa. Trovano il fienile distrutto dalle fiamme. Gulten chiede a Gaffur cosa stesse facendo. Gaffur risponde che si trovava nel fienile al momento dell'incendio e che dovrebbero essere grati perché ha aiutato a spegnere le fiamme in tempo per salvare il resto della villa. Gulten si rallegra che nessuno sia rimasto ferito nell'incendio. Successivamente, Demir afferma con convinzione che l'incendio sia stato causato da Fikret. Il giorno dopo, Demir si avvicina ad Fekeli con rabbia e chiede dove si trova Fikret. Fekeli chiede perché Demir sta cercando Fikret, e Demir risponde che entrambi sanno il motivo. Demir provoca Fekeli dicendo che non può essere considerato suo zio se non riesce a controllare Fikret. Fekeli avverte Demir di stare attento alle parole, ma Demir lo minaccia e lo esorta a prendere le redini della situazione. Demir poi chiede a Fekeli quali siano le sue intenzioni dato che ha già diffamato la madre di Fikret. Fekeli risponde che Fikret avrebbe dovuto pensare due volte prima di diffamare suo padre. La discussione tra i due si fa sempre più accesa, e Demir definisce Fekeli un codardo, suscitando la sua ira. Fekeli, furioso, se ne va, ma Demir lo segue fino all'azienda e gli spara ripetutamente al petto, lasciandolo a terra e terrorizzando tutti i presenti. La trama sembra essere molto coinvolgente e piena di suspense. Sarebbe interessante vedere il video per scoprire se era davvero Fikret e se Fekeli riuscirà a sopravvivere all'agguato di Demir. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle novità della serie preferita. Lasciate un like e attivate le notifiche per non perdere.